Aveva consentito alla donazione di organi nel momento del rinnovo della carta di identità e la sua decisione è stata rispettata. Una donna di 59 anni, originaria di Trinitapoli, ha donato alla sua morte fegato, cuore, reni, polmoni e cornee. Le operazioni di prelievo sono avvenute all'ospedale Bonomo di Andrea, dove 5 equip si sono alternate nelle sale operatorie per un totale di 30 ore. Il fegato è stato prelevato dall'equip dell'ospedale Cardarelli di Napoli, mentre il cuore dai cardiochirurghi del Policlinico di Bari, i nefrologi del Policlinico di Foggia si sono occupati dei reni, mentre i medici dell'equip del Policlinico di Padova dei polmoni, le cornee, sono state prelevate dal gruppo di oculisti di Andrea e trasferite successivamente alla Banca degli Occhi di Mestre. Agli attività hanno partecipato anche la medicina trasfusionale e l'ematologia dell'ospedale di Barletta, che hanno svolto esami aggiuntivi e utili al prelievo. Il marito e i tre figli della 59enne hanno sostenuto la volontà della donna. E' la nostra undicesima donazione dall'inizio dell'anno, la più lunga e la più complicata, ha spiegato Giuseppe Vitobello, coordinatore delle donazioni nell'ASLBAT, ricordando che le donazioni sono un atto complesso e richiedono l'intervento diretto di professionalità diverse. La donazione degli organi è sinonimo di speranza e di rinascita per i tanti che oggi hanno ricevuto una seconda possibilità e ringrazio la famiglia della 59enne, ha spiegato Tiziana Di Matteo, direttrice generale dell'ASLBT.